dietro il culo indietro cedere indietro più possibile sia nelle salite che nelle discese il sedere indietro qua devi averlo e tu ce l'hai qua caricala anche nelle discese ma c'è una fatica in prima ma così deve essere ma per me è la moto che li tira su non può essere c'è qualcosa che non perché anche quello lì fa così ma non è mica giusto per me è la moto va bene impiccato ma sei arrivato bravo le spalle girate dagli via ma però già l'ottica ce l'ha bravo indietro il sedere bravo indietro tutto così c'è finita anche questa cazzo c'ha cazzo gli è successo grazie grazie